Con la gara per l'appalto da un anno del servizio rifiuti andata deserta per tre volte, l'amministrazione comunale ai vertici della SRR4 la scorsa settimana hanno incontrato il prefetto di Caltanissetta. Si tenterà di individuare una soluzione praticabile dato che solo per il lotto di Gela non sono state formulate offerte una situazione anomala che la Giunta ha deciso di affrontare anche attraverso un legale che si sta occupando di definire il parere da richiedere all'autorità nazionale anticorruzione. Prima di assumere qualsiasi decisione il sindaco Lucio Greco, l'assessore Graziaro Bilatte e il presidente della SRR Salvatore Chiantia vogliono avere indicazioni certe così da non incorrere in eventuali passi falsi. Una soluzione caldeggiata dalla prefettura. Il quesito verrà poi inoltrato all'ANAC. Probabilmente nei prossimi giorni potrebbe essere completato. Una soluzione deve essere individuata prima possibile in un settore sempre in fibrillazione. 18 lavoratori Tecra con contratti non rinnovati hanno avviato una protesta plateale raggiungendo il cornicione del municipio. Il Tiremol riguarda il numero dei lavoratori da impiegare oltre ai dati puramente economici. Intanto la commissione di gara ha segnato l'appalto per il lotto di niscemi alla ECOS SRL di San Cipirello in provincia di Palermo. Da oggi invece dovrebbero essere valutate le offerte per il lotto di piazza Armerina. Rimarrà poi quello relativo ai comuni di Butera, Riesi, Mazzarino, Sommatino e Delia. Qualcosa quindi inizia a muoversi anche se la casella mancante di Gela continua a suscitare non pochi sospetti.